Musica Bene, eccoci insieme anche oggi. Prima fuori onda scherzavamo e pensavamo a Ceggia in provincia di Venezia come la Cupertino d'Oltreoceano, la mitica Silicon Valley. Perché? Perché a Ceggia ha sede la Sengim, che è una delle eccellenze dell'ingegneria italiana, che opera soprattutto in Italia ma anche all'estero, soprattutto il 50% a dire la verità. Ne ospitiamo il presidente e fondatore Fabio Marabese. Allora, i risultati, soprattutto negli anni recenti, sono straordinari. L'anno scorso hanno incrementato il fatturato del 67%, quest'anno puntano ad incrementarlo del 100%, negli anni precedenti era aumentato solo del 30%, attualmente 110 dipendenti, ma vorrebbero diventare 130 nel 2019, 8 sedi in Italia. Detto ciò, il nostro ospite è preoccupato per la burocrazia e il credito che frenano le aziende. Meno male che è preoccupato. Lei non la ferma nessuno. Ma diciamo che siamo preoccupati, ma sempre con la voglia di andare avanti. Per cui auspichiamo e contiamo su un po' anche di fortuna, ma auspichiamo su quelle che sono le alleanze che noi ci aspettiamo anche dalle istituzioni. Per cui diciamo che oggi per noi è importante dedicare il nostro tempo alle cose che servono a creare ricchezza e ci piace poco invece dedicare il tempo alle cose, alla burocrazia che invece non ci fa crescere. Mi scusi, lei però è anche un rappresentante di Confindustria. Lei in Confindustria Veneto è delegato dei servizi innovativi e per le infrastrutture digitali. Allora, devo dire, Confindustria è preoccupata per il futuro dell'economia del nostro paese. Lei invece negli ultimi due anni ha dei dati straordinari. Qual è il segreto? Il segreto sicuramente sono le alleanze che le imprese fanno. La prima alleanza che va fatta è sicuramente all'interno della propria azienda, con i propri collaboratori, rispetto a un progetto che deve essere un progetto chiaro e ambizioso. Noi siamo un'azienda molto giovane, per cui i giovani hanno delle ambizioni, hanno voglia di crescere sia in termini professionali che in termini anche di benessere da portare in famiglia. Per cui è chiaro che di fronte a un progetto ambizioso, diciamo che l'impegno e la dedizione e la passione che tutti i collaboratori mettono è sicuramente maggiore rispetto a un progetto che diventa un progetto tradizionale e normale. Lo dico sorridendo, ma il modello marabese secondo lei può essere esportabile all'imprenditoria in genere italiana? Assolutamente sì, io ne parlo tutti i giorni con gli amici imprenditori. Lei è un ottimista? Io sono sempre ottimista, perché oggi analizzando il mercato le opportunità ci sono, ci sono e hanno però delle caratteristiche che noi imprenditori dobbiamo portare al nostro interno. Per cui dobbiamo capire bene quali sono le richieste che ci fa il mercato, che ci fanno i clienti, tornare in azienda e in azienda organizzare per essere pronti nel momento in cui quel cliente chiederà quel tipo di servizio. Per cui noi dobbiamo solo rimboccarci le maniche, coinvolgere pienamente i nostri collaboratori e assieme riusciamo a dare quella soddisfazione ai nostri clienti che poi ci permettono di fare questi salti di fatturato, di crescita in termini anche occupazionali. Lei dà l'idea e i risultati le danno ragione che comunque si riesce a crescere e a diventare grandi a prescindere dal sistema? Sì, si riesce a farlo nel momento in cui noi siamo convinti di potercela fare, nel senso che rispetto... Viviamo in un paese che non è facile, soprattutto per gli imprenditori. Diciamo che non è facile, però non dobbiamo dedicare il tempo a lamentarci del fatto che non è un paese facile. Per cui oggi noi dobbiamo capire bene quello che è il nostro compito e dobbiamo farlo soprattutto bene. Per cui diciamo che le opportunità ci sono, ci sono sempre state, i denari, gli investimenti ci sono, per cui noi dobbiamo essere stimolatori anche del mercato e portare quello che per noi poi diventa ricchezza in termini di occupazione e per cui ricchezza delle nostre famiglie. Lei fra l'altro ha un'altra caratteristica rispetto ad altri imprenditori di successo che magari trovano all'estero il motivo del loro business. Infatti oggi si dice che le imprese che vanno meglio sono quelle che lavorano con l'estero. Lei però il 50% del suo fatturato ce l'ha in Italia. Quindi è veramente una situazione particolare la sua. L'Italia è un paese che ha bisogno di attività di ingegneria che noi forniamo. È importante capire che tipo di attività ha bisogno questo paese. Un tema come quello dell'efficienza energetica, cioè del risparmio energetico, è un tema attuale. È un tema che ha anche un potenziale altissimo, per cui le aziende, ad esempio, le industrie, hanno necessità di inquinare meno e hanno necessità di risparmiare sui costi di produzione per essere più competitivi poi in un mercato che è quello globale. Lei si è fatto prendere dalla greta mania? Diciamo che è un tema che... Lei è critico sul termine sostenibilità, che dice che bisogna riempire di contenuti. Diciamo che, esatto, è un termine abusato e in realtà dobbiamo dare il giusto taglio a questo aspetto della sostenibilità, perché sostenibilità vuol dire tante cose, per cui dobbiamo capire poi su quali concentrarci per poter comunque comunicare con la popolazione su una parola che, ripeto, per me è troppo vaga in questo momento, è mal usata qualche volta. Lei ha usato prima un termine importante, alleanza. Lei riesce a fare alleanza anche fra imprenditori veneti? Assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo che questo è un tema abbastanza importante, però è anche la svolta per far crescere poi le aziende. Con molti amici imprenditori noi abbiamo fatto delle alleanze anche strutturate e formalizzate rispetto a dei consorzi piuttosto che a delle reti di impresa. In realtà l'alleanza ci permette di poter far massa critica, che poi è quella che il mercato ci chiede. Oggi i clienti ci chiedono progetti importanti, con dei numeri importanti, con delle risorse da mettere a disposizione importanti, e ci chiede anche di realizzare questi progetti in tempi molto stretti. Se poi andiamo fuori confine, naturalmente dove il confronto è con società che hanno 1.000, 2.000, 5.000 dipendenti, è chiaro che se noi vogliamo avere qualche chance dobbiamo far massa critica. La crisi di un'azienda avviene per l'assunzione diretta che l'impresa fa, oppure mettere a sistema più aziende, per cui l'alleanza tra imprenditori e tra imprese, che si mettono assieme per quel tipo di obiettivo, di progetto da realizzare. Lei mi pare che applichi concretamente quello che si dice valorizzare ciò che unisce invece di valorizzare ciò che divide. Guardi, io tendenzialmente cerco di valorizzare quello che c'è e dedico pochissimo tempo a quello che non c'è. È chiaro che le cose vanno fatte con quello che oggi abbiamo a disposizione, per cui con le persone che ho a disposizione, con gli imprenditori e amici che ho a disposizione, cercando di allargare sempre di più questo bacino a cui attingere. Di necessità si fa virtù. Assolutamente sì. Recita un vecchio proverbio. Tra le alleanze lei valorizza anche quella con la cultura. Sì, assolutamente, perché io penso che cultura ed economia siano due pilastri del benessere, sia materiale che immateriale, di questo Paese. Per cui la nostra azienda sostiene molte iniziative culturali e diciamo che il tema anche della cultura di impresa è un tema che noi portiamo all'interno della nostra azienda e la condividiamo con i nostri collaboratori, perché pensiamo che questo permetta a loro di avere una responsabilità maggiore rispetto al lavoro che fanno. Lei si sente un ingegnere atipico? Allora, permesso che io non sono un ingegnere, però sono a capo di tanti ingegneri. Sei un ingegnere, invece, un filosofo? No, assolutamente. Io sono un diplomato in elettrotecnica che però ha avuto il sogno, forse anche la fortuna appena diplomato, di entrare in una grossa società di ingegneria dove ho avuto modo di frequentare la grande industria, che poi è quella che fa nascere molto spesso le piccole aziende, dove però la mentalità era di tipo, di un'organizzazione di tipo industriale, per cui io ho avuto, diciamo, una formazione post-diploma di tipo molto industriale, per cui alla fine la logica del diventare un'azienda grande, insomma, stava quando mi sono diplomato. Per cui il mio sogno è quello di fare e di portare Changema ad essere un'azienda molto importante e molto grande anche in termini di numeri. Qual è l'opera di cui va più orgoglioso, tra quelle che avete realizzato in questi venti anni? Ma diciamo che ne abbiamo fatte molte di opere importanti. È chiaro che abbiamo fatto cose anche molto particolari. Oggi diciamo che mi sta, diciamo, divertendo il tema dell'efficienza energetica nella grossa industria. In questo momento stiamo portando avanti dei progetti importanti con un cliente molto importante per efficientare i stabilimenti della Fiat. Lo scocitare, eh? Ah, appunto. Gli stabilimenti della Fiat, piuttosto che abbiamo realizzato grossi impianti fotovoltaici, ma noi siamo anche gli ispettori per il GSE, che è il gestore di servizi elettrici, per andare a controllare gli impianti che sono stati realizzati in Italia. Diciamo che quella è un settore che mi sta appassionando in questo momento, che sto studiando con molta attenzione, perché ha molte potenzialità ancora da mettere a disposizione. Quando lei ha deciso di fare l'imprenditore a questo punto, come mai hai scelto questo settore? Per l'esperienza che casualmente aveva avuto entrando in quel gruppo di cui hai parlato prima? Diciamo che sicuramente quello mi ha condizionato. La fortuna è stata di entrare in una grossa azienda che si occupava comunque di progetti importanti, perché il personale viene da noi, perché ha la possibilità di vedere, diciamo, progetti diversi, comunque rilevanti rispetto a piccoli progetti che normalmente i piccoli studi realizzano, per cui anche a livello professionale la gente viene a lavorare in Senging perché ha questa possibilità. Poi è chiaro che uno è più portato a un certo tipo di settore e viene canalizzato rispetto a quel settore. Ha la possibilità di confrontarci con tanti colleghi, ha la possibilità di girare l'Italia e il mondo, perché i nostri progetti, come dicevo, stanno in Italia, ma stanno anche fuori del nostro confine nazionale. Per concludere con un sorriso, sono figlio di ingegnere, quindi posso parlare a ragione veduta. Sono cambiati gli ingegneri, la forma mentis degli ingegneri in questi ultimi anni? Diciamo che... Secondo me sono diventati un po' più elastici. Ma diciamo che io che ho seguito spesso e volentieri l'idea di sviluppo, l'ingegnere oggi ha sicuramente migliorato la sua capacità e la sua apertura rispetto al trattare i temi che poi dobbiamo fornire ai nostri clienti. Era quello che volevo dire. Però diciamo che agli ingegneri, ai miei ingegneri, dico sempre ragazzi, uno più uno qualche volta non fa due. E questo fa fatica ancora a capirlo. Fa sempre due. Ma insomma, c'è anche travolta una virgola, perché sennò poi li... cioè non rendiamo merito all'ingegneria che ha fatto e continua a fare tanto per il nostro paese. Grazie. Grazie a lei. Grazie a Fabio Marabese, che è il titolare nonché fondatore della Sengim, eccellenza dell'ingegneria nazionale con sede a Ceggia in provincia di Venezia. Buon lavoro e visto che gli obiettivi sono importanti, insomma... Grazie. Fatecela. Certo, bisogna. Ma non c'è dubbio. A domani. Grazie a tutti.